Buongiorno, mi chiamo Benedetto Grossi, sono un imprenditore edile, sono associato ANCE, che è l'emanazione del raggruppamento edile in Confindustria e sono presidente della scuola edile di Modena. E già per tutti questi motivi sono inserito nell'organizzazione di questo evento, che ritengo abbia un'importanza notevolissima ed è dimostrato dalla partecipazione e dai suoi contenuti che sono sempre stati tendenti al risparmio energetico, all'utilizzo anche in tale direzione della domotica e soprattutto, non soprattutto no, anche per sintesi, al recupero di tutto quello che storicamente l'edilizia del passato ci ha lasciato. Questa mattina ho già fatto un piccolo intervento e ribadisco qui quanto sia importante che quello che viene generato in queste sessioni di lavoro sia divulgato anche ai consumatori finali, perché i temi stanno diventando sempre più delicati e difficili da comprendere, hanno delle necessità economiche piuttosto importanti, anche se poi troveranno un riscontro di risparmio, ma successivo e quindi noi tecnici, noi imprenditori, noi progettisti e anche i politici abbiamo la necessità, il dovere di sensibilizzare la popolazione sui temi. Cioè se noi siamo la lanterna che corre davanti agli altri, bisogna però che gli altri ci vedano. Ecco questo è il mio auspicio per la fine di questi lavori.